Ben ritrovati in studio, siamo con Pierluigi Piccini e Raffaella Zelli a riuscita del Cittadino Online, parliamo di una visione di Siena per i prossimi anni. Ora siamo arrivati all'ultimo blocco e mi piaceva parlare della cultura perché abbiamo finito la seconda parte con quello, a poi nella sua eredità che hai lasciato c'è un altro pezzo importante di cui non abbiamo ancora parlato, che è il Santa Maria della Scala, mi ricordo io a quei tempi quando sono letto il progetto del Cestud sull'industrializzazione dei beni culturali, ti immaginavi un Santa Maria che generava 200 posti di lavoro, era una specie della cittadetta della cultura di Siena, anche qui sono passati 20 anni e siamo sempre lì. Qualche realtà in provincia c'è che è riuscita a industrializzare i beni culturali o quantomeno si è avvicinata a quel progetto il più possibile? Primo, non c'è un progetto culturale, anzitutto perché la cultura è vista in funzione del turismo, se tu guardi alla segna stampa del Comune c'è scritto turismo e cultura, che è alla Franceschini, il turismo si nutre di cultura nella città d'anno. Non tutto il turismo si nutre di cultura e non tutta la cultura si nutre di turismo. Quello sono d'accordo. Allora qui bisogna decidere, una cosa è il turismo, una cosa è la cultura, ma non è proprio così, non c'è soltanto il bene culturale, le tue cose… Sì, ma c'è anche l'enogastronomico, ci sono tante cose, c'è il paesaggistico, c'è il benessuto. Mi direi che l'enogastronomia non è cultura perché… Sì, è cultura sicuramente, però ho un'altra visione… Hai un purista su questo perché… No, io non voglio fare il purista, soltanto ho un'altra visione della cultura, di quel progetto, cioè io sono convinto che avendo lavorato tanti anni in banca, che bisogna mesurare la redditività di quello che fai e nella redditività di una città c'è la redditività sociale, se il costo è superiore al ricavo, conviene scegliere un'altra strada. Il costo sociale intendi? Il costo sociale più alto del ricavo economico, conviene prendere un'altra strada, oggi se a mio parere il costo sociale delle operazioni che sono state messe in piedi e il ritorno economico è così basso che conviene cambiare strada, perché si stanno scimmiottando situazioni già consolidate che in realtà stanno cercando di trasformare il loro sistema di modello economico. Tu dici, stiamo andando dietro ai modelli di Venezia e Firenze… Ma perché il privato vuole quello, ma perché il tour operator che è legato al privato vuole quello, perché l'incoming vuole quello, è lì il nodo, è perché tu hai smantellato del tuo sistema di riferimento. Il Santa Maria Scala non è che noi ci siamo inventati qualcosa di particolare, era un progetto legato a Brandi, ai grandi storici dell'arte che erano a Siena, voglio dire che sono stati a Siena e che hanno operato a Siena, quello di farlo un centro interdisciplinare molto forte, non farlo diventare una galleria espositiva a vantaggio delle quantità di biglietti staccati, non era questo. Siena credo che si meriti di più, anche perché c'è un processo identitario all'interno di questo percorso che io dico e Siena ha una sua caratteristica particolare che è la formazione, Siena si caratterizza per la formazione. Cioè voglio dire, ci sono percorsi identitari fortissimi nel settore della cultura che hanno bisogno ancora di essere rappresentati e che per esempio Sacco per il progetto di Siena 2019 non ha minimamente capito. C'è una storia dell'arte identitaria italiana che deve essere ancora scritta nella sua completezza per uscire dall'egemonia di Venezia, di Firenze e di Roma, che è quella dell'Italia centrale, della cultura cortese che guarda caso, nasce proprio a Siena. Sono stati fatti degli interventi episodici, ma non c'è un processo complessivo di identità, di ricerca, di studio, di approfondimento. Qui l'università è stata completamente abbandonata, non è stata neanche consultata su questi processi, nonostante che ci siano storici dell'arte di primissimo livello in questa città e non soltanto all'università. Parli dell'esperienza di Sacco? Io parlo dell'esperienza di Sacco, ma parlo anche di come viene oggi impostato il lavoro al Santa Maria della Scala. Le due cose si inseguono, non è che sono cose separate. Voglio dire, qui è il vero problema. Di cosa ho bisogno io? Ho bisogno di avere delle persone che si fermano, ma si fermano perché studiano, si fermano perché hanno una formazione continua, che utilizzano gli alberghi in un certo modo, che utilizzano le case in un certo modo, che per esempio si vestono, che vanno a mangiare. Lo sai quanto è il tempo medio di permanenza in questa città? No, un'ora e quaranta. Poi c'è un'amministrazione comunale che ti fa un depliant dove c'è scritto come vedere Siena in tre ore, siamo alla pazzia, siamo alla pazzia. Il tempo è un'ora e quaranta, se ce le tengo tre, ha fatto uno scalino più su. Ma tu devi guardare sempre le mani dei turisti e tu le vedrai sempre libere. Con il gelato, con un panino. Noi non abbiamo bisogno di questo, noi abbiamo bisogno di redditività che si distribuisca sul territorio e per fare questo c'è bisogno di qualità e c'è bisogno di reimpostare totalmente un cantiere completamente nuovo sulla cultura. Il Santa Nascala è diventata una galleria a vantaggio di qualche privato, ma non è questo di cui Siena ha bisogno. Raffaella, ti piace più l'impostazione di Pierluigi o il turismo? No, io lo sfido chiunque a scegliere il turismo, mordi e fuggi. A secondo te è possibile? Ce lo vedi questa possibilità? No, è possibile, dobbiamo farlo. Scusami, scusami. Io credo che sia possibile, credo che sia possibile sviluppare di più le capacità professionali della città, questo l'ho detto e lo dico su più settori oltre che su quello culturale. Sicuramente sul Santa Maria della Scala ci sono stati numerosissimi dibattiti, alcuni dei quali veramente inutili, nel senso che è stato un gran parlare che poi alla fine non ha portato mai a nulla di particolarmente interessante. Si era parlato di farci una scuola di restauro piuttosto che una scuola che tenga conto appunto del percorso dell'arte nella sua storia, con particolare attinenza alla storia senese, però poi non si è visto niente, sostanzialmente è rimasto tutto lì. A quel progetto suo, più che una scuola di restauro, era sul recupero dei primi misteri che consentono di restaurare gli edifici antichi. Sì, non solo, c'erano i laboratori, una parte era anche questa. Quello potrebbe essere estremamente interessante, sicuramente porterebbe a ricostruire tutto ciò che era il Santa Maria della Scala in una visione che io ho sentito da più parti ma che poi non si è realizzata. Sicuramente bisognerebbe staccare Siena dall'esperienza in cui sono incappati e non riescono più a uscire città come Venezia e come Firenze. Io quando studiavo geografia turistica, a miei tempi si chiamava geografia turistica e non marketing turistico, ti spiegavo l'evoluzione della stazione turistica e descriviva un processo irreversibile che si manifesta appunto quando cominciano a sparire i mestieri artigianali di pregio, per non dire d'arte, e cominciano a comparire le gelaterie, le pizzerie al taglio e il temutissimo Pinocchietto nei negozi. Pinocchietto è considerato il simbolo della fine della stazione turistica ed è considerato un processo irreversibile. Noi dove siamo in quel processo? No, noi siamo dentro questo processo purtroppo. Perché si è scelta la strada più semplice, la strada quella che hanno fatto tutti, non ci si è impegnati e poi soprattutto anche qui il rapporto con il privato, andavamo prima, in questo caso il privato si chiama opera laboratori fiorentini. Non è che deve essere un fine, il privato è uno strumento, è uno strumento che tu devi saper utilizzare, ma per saperlo utilizzare in questa situazione, in questa realtà, in questa fattispecie, hai bisogno di avere una politica culturale del Comune, ma chi la fa la politica culturale del Comune? Se tu guardi bene, la politica culturale del Comune è suddivisa in diversi assessorati a partire dal turismo, poi c'è il direttore del Santa Maria della Scala, poi c'è l'assessore che guarda caso non ha competenze sul Santa Maria della Scala e via via via, e così non si va da nessuna parte, voglio dire, io non ho nulla ad esempio contro i privati in questo caso, però deve essere inserito all'interno di un progetto, non può essere lui che stabilisce qual è la politica culturale del Comune, non funziona in questo modo qui, ed è chiaro che se è lui che stabilisce, che cosa si punta? Alla quantità, alla bigliettazione, all'elturo per eto di un certo tipo e quant'altro. Sai benissimo che oggi, molto più di ieri, diventano volumi ed edifici insostenibili, Santa Maria costa 2 milioni di Euro l'anno solo per tenerlo aperto. Sì, ma non c'è, torniamo anche al discorso dell'urbanistica, non ci sono pacchetti di progetti cantierabili in questa città, non c'hai un book di progetti, come fai tu a chiedere finanziamenti, questo Rossi lo ripete in continuazione, quando non hai un progetto vero su cui puoi attrarre privati di un certo tipo, finanziamenti regionali, europei e quant'altro. L'urbanistica è la stessa cosa, tu guarda l'esempio dei finanziamenti per le periferie, si è andati a fare piste ciclabili, qualche tubatura, i soldi a taverne, ma non c'erano dei progetti già pronti che potevano essere cantierabili da sottoporre. La prima cosa da fare è di avere un book di progetti, altrimenti come ti muovi e di avere all'atere di questo soggetti che ti sanno fare le domande all'area dell'europeo, non è un caso che Siena Gez prende finanziamenti dallo Stato della Comunità Europea, ma lo prende perché ha trovato le persone che sanno fare i progetti. Vedi come tutto si rincorre, tutto si rincorre, manca il piano regolatore, quindi manca il piano della mobilità, non ho i progetti esecutivi, siamo subalterni al turismo, il turismo la cosa più semplice è stata quella della quantità, perché è stata data dal privato, il pubblico che non c'è, hai smantellato il centro servizi. E' chiaro che ormai sei dentro una spirale che o la rompi e sposti completamente su un altro asse, coinvolgendo le forze e anche i privati su quest'altro progetto che è maggiormente redditivo, che io sostengo che produce più reddito per la città rispetto a questo che produce dequalificazione e costo sociale, è qui che le cose non tornano. Raffaella, ti trovi d'accordo con quello che dice Pierluigi? Lui sicuramente ha più competenze dal punto di vista amministrativo, io non ho una visione, non ci sono mai stata negli uffici comunali e quindi anche a dover prendere delle decisioni importanti su questo aspetto. Posso dire che sicuramente le cose come sono in questo momento non vanno da nessuna parte? Secondo te non parlo di risorse economiche, ma di risorse umane, ce le abbiamo disponibili senza guardare lo schieramento politico, le tessere, ce le abbiamo in questa città le risorse umane sufficienti per questo? Io sono convinta di sì, che le risorse ci siano e che siano molto ben nascoste, purtroppo la politica c'entra perché se certe risorse non sono venute fuori è proprio perché la politica non le ha volute ascoltare e io credo che la politica a questo punto dovrebbe in qualche modo elevarsi a livello delle professionalità che ci sono a Siena e chiamarle per avviare un progetto, un cambiamento, altrimenti questa città è destinata a perdersi definitivamente ed è un vero peccato. Ci sono queste risorse? Sì, ci sono, sono convinto, li conosco, persone con cui ho parlato, persone che sono disponibili, c'è questo elemento della politica, è vero, però ci sono e ci sono anche giovani preparati che saprebbero dove mettere le mani sicuramente. Beh, come facciamo a metterli in campo? Questo è il tema del prossimo anno. Il tema del prossimo anno? Sì, vedi qual è il problema, una delle questioni è che il PD, fra le tante cose che ha fatto, o meglio, gli amministratori del PD, non voglio fare tutta l'erba faccia, hanno desertificato le classi dirigenti, proprio le hanno seccate. Credo che il prossimo sindaco abbia un grande responsabilità, quella di creare un'equip di amministratori nuovi che possa prendere in mano la città per i prossimi anni. Bene, quindi il messaggio finale, che ormai abbiamo finito il tempo, può essere questo, il programma sì, ma prima del programma cerchiamo di mettere insieme i cervelli giusti per scriverlo. Per questo monito finale concludiamo, io ringrazio Raffaella, ringrazio Pierluigi e voi di essere stati ad ascoltarci e ci vediamo con se ne risponde il prossimo mercoledì, che dedicheremo a un tema, ormai un nostro cavallo di battaglia, Monte dei Paschi con gli aggiornamenti sia di quello che accade in banca e sia nei processi. Posso farle un ringraziamento finale? No, è già finito. Hanno mai chiesto niente del Monte, il che fa benissimo anche, non ne posso più. Grazie a tutti.